Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 9 km di coda in diminuzione per riprissino urgente della pavimentazione nel tratto tra Monte San Savino e Valdarno. Sulla FIPILI fare attenzione per personale su strada segnalato nel tratto tra Firenze, Viadotto dell'Indiano e Firenze, Scandici in direzione Mare. Su raccordo autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggibosi e Tavarnelle. Sulla regionale 2 Cassia per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Ti auguriamo un buon viaggio.